salve a tutte e tutti a care amiche e cari amici qui ancora una volta il vostro senten chan che vi saluta da fuori casa faccio questo video in tempi di covete 19 coronavirus covide 19 stars 2 o come altro lo chiamino sto fuori casa come potrete vedere e mattina molto presto sono uscito dopo mesi di stare in casa avevo delle faccende da sbrigare vedo che in molti commentate i miei video grazie mille di seguirmi e se veramente vorreste aiutarmi condividiate per favore i miei video fra quante più persone possibili poi un'altra cosa dicono in youtube che per aiutarci l'uno all'altro come produttori di video dobbiamo collaborare è una forma di collaborare e fondere i nostri canali in modo che io possa caricare i miei video nei vostri canali e voi possiate caricare i vostri video nel mio canale quindi a quanti di metteranno come commentario sotto questo video il loro gmail del canale perché youtube vuole che si faccia con il gmail non con un altro e mai io gli manderò l'invito in modo che loro possano diventare amministratori del mio canale tutti quelli che manderanno che mi scriveranno il gmail sotto questo video del loro canale di youtube e possano caricare video nel mio canale questo farà sì che diventino più popolari poi una cosa che volevo sapere già da molto tempo non trovo più il canale di ortus biologico molecolare non so come il vegetarianus ortus biologico e non trovo più il suo canale non trovo più il canale di ortus biologico vegetarianus eccetera se qualcuno mi possa far sapere che fine ha fatto glielo ringrazierei molto arrivederci e ad un'altra volta ciao beh mi filma ancora un po mi spiacerebbe sapere innanzitutto che il canale di ortus biologico vegetarianus sia sparito perché io lo seguivo da molto tempo e poi e lui mi seguiva e poi mi spiacerebbe sapere che gli sia successo qualcosa come mai non trovo più il suo canale veramente è triste sapere che lo ha chiuso magari perché sta male gli è successo qualcosa quindi quanti di voi sanno cosa è successo a ortus biologico molecolare o vegetarianus o che ha fatto del suo canale perché magari gli ha cambiato nome gli ha messo un'altra miniatura c'era un canale che ha commentato i miei video ultimamente mi sembrava lui per come commentava ortus biologico però non so io ho cercato in youtube e in internet ortus biologico e mi apparivano dei risultati ma quando andavo a guardare il canale non esiste oppure mi facevano vedere qualsiasi altra cosa e quindi a quanti sanno cosa è successo di ortus biologico me lo dicano e poi mi raccomando se volete collaborare con me datemi le mail del vostro canale di youtube soltanto che deve essere un gmail se non avete il gmail prendetelo basta semplicemente che entrate nella cont di google e chiedete di avere un gmail poi una volta che avete il gmail me lo date e io vi invito formalmente a poter essere amministratori del mio canale naturalmente sarò anch'io amministratore del vostro canale o voi mi potete mandare un invito a essere amministratori del vostro canale amministratore in questo modo io potrò caricare video sul nostro canale questo conviene a tutti per esempio io ho molti iscritti molti abbastanza abbastanza visualizzazioni e abbastanza commentari se voi volete aumentare i vostri iscritti visualizzazioni e commentari io se vi carico dei video nel vostro canale posso farlo e voi avrete più visualizzazioni se caricare se caricaste i video nel mio canale ecco con questo vi ho detto tutto gente uomo avvisato mezzo salvato e credo che anche donna avvisata a mezza salvata poi se voi non volete collaborare con me col vostro amico santa in cian caricando i video nel mio canale e invitandomi a caricare i miei video nel vostro canale vuol dire che non ci tenete alle collaborazioni adesso vi lascio perché altrimenti questo video viene troppo pesante e poi vendrà data l'illuminazione che c'è buio pesto alla genovese e allora dopo quattro mesi insomma più o meno di non essere essere uscito di casa già mi stanco ad uscire io vi saluto qua col mio vecchio gps del 2012 che non prende mai il satellite io vi lascio e niente a presto continuate a seguirmi a condividere i miei video se mi volete aiutare e a commentarli però mi raccomando condividete i miei video non guardateli soltanto ciao ciao